ok tanto lo so che ci siamo in live però lo so che non c'è neanche nessuno allora io ho visto questa cosa strana e ho fatto tipo la reazione era tipo così io che stavo cercando le chiavi vedete poi apro la porta e mi ritrovo questo qua e lo dico tutto lì non mi vede se muove cerco di tirargli una lampada ci sono riuscito se vogliono la morte lo facessimo se vogliono la morte lo facessimo mi sa che vuole la rivincita io non te la darò se vogliono la morte lo facessimo ma ormai niente mi è diventato un abituato tipo persino vede 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 nelle chiappe nelle chiappe nelle chiappe un un spettatore grande è grande che se ne vai è certo vattene 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 è vicino è vicino è vicino non mi travi non mi travi tente non mi travi vattene 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 No, 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 no. e adesso lupi veddik No, va, fanno chiuso No, guardate che non è nulla Ho trovato niente nei cassetti di casa sua Vado a trovare nei miei... no, scherzo solo Eee, io sono le della gacca guardate me un pomodoro Ah, è venito 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 no ma se mi dirianci così le cose anche io cerca di rilanciarmi nel maledetto come non mi ha preso ehi sono qua eh sono qua eh sì mi hai visto finalmente seguimi 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 e vabbè vabbè fanno che urlo vabbè 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 non proprio vabbè io mi cattro nelle porte devo affanchiurlo per ora no 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 almeno lasciami la radio ok grazie guardate quanto è brutto il vecchio vicino è morto a parte il cane a parte quando è quello orrendo di tua madre non cambi il fumo sa di fumo ti caprami questa cazzo non mi ha portato a fortuna o forse no a parte il cane a parte il forte quello orrendo di tua madre non cambi il fumo non vedo un cacchio bene ti spengo la connessione internet scemo come mi hai visto incredibile no vabbè adesso lì devo riuscire vabbè vabbè allora adesso sai che faccio no scemo non vediamo vabbè non vediamo non vediamo ok ho cercato di magari il vicino è impossibile farlo devi sempre portarti due oggetti ricordi? vieni 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 amo ti prego sei lì su ventilatore ok 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 quindi lui dovrebbe riuscire a fare stretching ma cosa sta facendo? non mi dirà che questa è presa come sua casa ma cosa c'è? ma stai ritornando a casa così? bene ma eh ma si davvero un co 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 vabbè vediamo come altro potremmo fare vai via non so giocare vero? il problema è che c'è sempre quello aspetto che non scrive niente in chat allora se solo sapessi come si giocasse questo gioco ok va bene mi serve il magnete per fare da qua sì c'è quello in chat mi potrebbe spiegare come si gioca il vecchio no? grazie se lo fai grazie se lo fai è finciato sono un genio non ascolti perchè io ci cazzeggio io ci cazzeggio a volte ma non mi ha visto vabbè serve una chiave qua ma ma dove mi ha visto? è meglio scappare va? non mi hai perso di vista vero? non mi hai perso di vista vero? ma è veniva e non 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 ma è veniva non vabbè non vabbè è una cosa per te, grazie è vergelino come è? è vergelino, è vergelino no, non ti prendo più no, non mi prendo più No 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 I Er No Mi vergogna No 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 Non lo voglio cantare più Mi vergogna non mi vedi non mi hai visto cosa cacchie non mi interessa che stai durmè non mi interessa 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 Non mi dire che se lo riaccendo, lo riaccendo, se faremo il volo è meglio senza elettricità. Ecco basta! Cosa c'è? perché? M'è un giusto? Non è un giusto Qu'è un giusto? Non è un giusto no fai giocci i giocci io giocci i giocci no non, 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 non Com'Con? Yeah, like what? Don't blame me for you, or... I can't help you. Come back, buddy. Oh, hey, I'm Miradagi, bardo jalapovat na mojnakal, lichitset. Kisodnia, rastoi taridichnaya... Vaffan Vaffan Bagno Guardalo, vaffan bagno Già che non mi viene nessun live Te sei l'unico aspettatore A chi sto parlando? Da vicino E' l'unico aspettatore E' anche un po' brutto Un hater Per un po' sempre Eh vabbè E' giusto Che to' di chi è? Che to' di chi è? Je prendere la tv Che visione che... che adoro vuoi? No! Sei scemo! Resta lì, resta lì! Signore con te, tu sei con il tetto progettore! L'hai detto che sei... quello lì! Sì, quello lì! Signore, vabbè va! Sì, tu hai detto il brutto del tutto! Aiaiaiai, vabbè va! No, no, no! No, no! No, no, adesso si scemo! No, vabbè va con il giro da vi è... No, vabbè sono qui vorrei da vi è... no va va fan cool va no va va fan va fan il problema è che non ti sceglierà anche se vuole alfa un attimo 5 euro